Una delegazione di 10 cuochi cubani in Piemonte per svolgere un tirocinio formativo sulla cucina italiana è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dalla vicepresidente del Consiglio regionale, Daniela Ruffino. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Cuochi di Torino e Provincia, prevede un tirocinio di specializzazione con nozioni tecniche e teoriche per creare piatti che si avvicinino il più possibile a quelli italiani, tenendo conto che alcune materie prime sono difficilmente reperibili a Cuba. 10 cuochi in visita a Palazzo Lascaris, orgoliosi di riceverli perché si parla di Piemonte, si parla di cucina, la caratteristica di questi cuochi. In collaborazione con l'Associazione Provinciale Cuochi Italiani vogliono visitare la nostra regione sotto l'aspetto enogastronomico. Certamente i nostri prodotti faranno un viaggio lunghissimo nelle ricette di questi cuochi, addirittura in Cuba, quindi nelle varie realtà che sempre di più ospitano un turismo italiano. Io credo molto nella possibilità che il Consiglio regionale apri le porte in questo senso. So che c'è un grande entusiasmo per la nostra regione, verranno visitate delle altre realtà, ma sono anche certa che una volta di più la regione Piemonte sarà regina in questo senso. Sì, come l'Associazione Cuochi è uno dei nostri compiti istituzionali è quello di ospitare gruppi e delegazioni che vengono tutta la parte del mondo. Noi siamo molto attenti agli altri popoli, questo è un popolo meraviglioso, sono latini come noi, quindi è facile capirlo, il loro linguaggio, perché è un linguaggio manuale, quello che noi facciamo tutti i giorni, quindi anche se la lingua non è sempre chiara nei dettagli, ma ci capiamo perché quello che noi facciamo è manualità e amore per le cose che facciamo. E uno dei nostri compiti è quello di trasmettere la nostra cultura millenaria, appetibile e vogliosa in tutte le parti del mondo. E questo gruppo di cubani sono venuti qui proprio per approfondire bene le radici nostre, perché in giro per il mondo i nostri prodotti non sono sempre reperibili e quindi loro si devono inventare delle situazioni, qui vengono per fare chiarezza. Abbiamo fatto dei giorni con loro e sono stati meravigliosi, ieri poi fare i tagliarin con loro, tagliarli a mano, è stata una goduria unica e quindi siamo pronti ad ospitare altre delegazioni. E una delle nostre missioni è questa, lo facciamo veramente con il cuore e con amore perché sono persone meravigliose. Quando arrivano qui a Torino un passaggio non deve mancare, quello di portarli qui in regione a far vedere anche le bellezze di un palazzo come abbiamo visto stamattina qui con loro.